Ringrazio Robert Nistor, Freisbomba e Dejovax per essersi abbonati al canale Passate dal canale di Freisbomba e Dejovax se vi va, link in descrizione Abbonati anche te al canale per ottenere vantaggi esclusivi come essere salutati nei video e poter vedere i nuovi video in anteprima fino ad addirittura 24 ore Tutto a partire da 1 euro al mese Inoltre puoi disdire quando vuoi Per maggiori informazioni link in descrizione Aiutami a vincere questa guerra Oltre il 90% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale Inaccettabile Non fare come loro, aiutami a crescere Basta iscriversi al canale e attivare la campanella su tutte Per poter restare aggiornati all'uscita dei prossimi video È gratis, diminuiamo questa percentuale Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Tipe Online E in questo video proveremo questa nuova auto, ovvero la Lampadati Tigone Questa nuova Super, un veicolo che sembra diciamo un po' vecchio stile possiamo dire Simile tipo ad auto come la cita O ad altre Ma Vedremo un po' come si comporterà Sembra veloce devo dire Già da prima l'impatto Sembra avere una buona manovrabilità comunque Vediamo le modifiche Se magari vuole entrare Tanto salutiamo Tichillo Che è entrato nella nuova auto Ora urti Allora Splitter GT Dove è stricare di Fidire Per ora urti posteriore Questo Cos'è diffusore Ma boh Questo ci sta Arata Marmitte Doppia rotonda Target Divisa Multipla rotonda Rotonda Allora devo dire che sono un po' strani Questa è un'armicchia Non so se è solo una mia introduzione Però Doppia rotonda Forse ci può stare O da jet Da jet Da jet Dai vai Librea Allora Doppia strice Strice gialla Vediamo Ok ci sono delle librea un po' Non sembra nulla di che diciamo Questa qui con le fiamme Non è brutta però Non saprei se mettercile o no Una di queste librea Ci metto strisce da cosa sotto questa No colore della più però bello Cattiamo colore della più Simbolo più Eccolo Minigoni Da gara Gtmk2 direi La migliore Spoiler Da gara colore 1 Da gara colore 2 Da pista Gtmk2 colore 2 Beh direi che Arco Colore 2 Ci sta Botto Colore 1 Colore 2 Prefetto Trice Parasole Vabbè dai Questa ci sta Ok ora abbiamo finito di modificare l'auto Sembra bella devo dire Un bel rumore Ci sta Ci sta Andiamo a provare Ha un'estetica molto Diciamo particolare Però bella Sembra una super promettente Poi non lo so ragazzi Sapete Cioè tutte queste auto Poi alla fine Si vedono in gara Come sono Ogni tanto Nelle curve ragazzi Quest'auto si perde Non ha poi tutta questa frazione Però Però Bisogna prenderci forse un po' la mano Se si vuole Cuidar bene Veloce È veloce Ha un'ottima accelerazione Un'ottima velocità massima Vedo Il controllo potrebbe essere Un più di più migliore Vediamo un po' Che velocità raggiungere Vabbè vediamo se batterà la tegra Vai vai Andiamo Andiamo Non penso batterà la tegra Però Non puoi mai sapere Non schiantarti Bene bene Andiamo A provarlo Facendo la linea di partenza Giusto Non ha molto senso Ok la lancia lui Vabbè sono partito dopo Vabbè Vediamo Che velocità raggiunge Qui c'è 170 Però raga Non è Devo dire È più veloce Della tegra Forse Sta raggiungendo 160 Migliorare Fa vedere Rifacciamo Rifacciamo Allora Parte più lenta Questo Sì Beh no Non è più veloce Della tegra Però Comunque si dipende Allora Starà allentando Lui Credo Non penso Fosse la velocità Massima Ah boh Ci sta Comunque Non sembra Mare Ah boh Detto ciò raga Non sembra Una super Allora Allora È sempre una buona Super È una buona velocità Massima Una buona accelerazione Ma Il controllo Potrebbe migliorare Però Però A parte questo Non ve la sconsiglio Particolarmente Vedremo col passare del tempo Se sarà così buona Quanto sembra Oppure no E detto ciò Rale Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi E attivatevi Se volete stare aggiornati All'uscita Dei prossimi video